Buongiorno a tutti e bentrovati per questa nuova puntata di Dialoghi. Come sapete Dialoghi è uno spazio dedicato alle varie arti e alla presentazione di progetti creativi, ma è anche uno spazio in cui poter testimoniare l'impatto e il potere terapeutico che una forma artistica come la scrittura ha. Oggi ho il piacere di avere con noi in collegamento dalla Sardegna Aurelio Mariotti, detto anche Elio, che ci parlerà della sua esperienza personale. Elio infatti più di dieci anni fa ha avuto un grave incidente stradale, al seguito del quale ha vissuto circa tre mesi in coma e al suo risveglio ha dovuto seguire un percorso di riabilitazione anche cognitiva, per cui la sua scrittura lo ha aiutato molto. Elio è arrivato a pubblicare due libri, uno nel 2018 dal titolo Una finestra sul mondo e l'ultimo nel 2021, I colori dell'anima, di cui ci parlerà. Elio, io ti do il benvenuto e ti ringrazio di essere qui con noi per questa tua importante condivisione. Ciao, grazie. Grazie a te. Allora Elio, per iniziare ci vuoi raccontare un po' questa esperienza che tu hai avuto, se non erro, 12 o 13 anni fa, per essere precisi? Allora, io l'ho avuto nel 27 del 2009, mentre tornavo a casa da un sacco con amici. Ho avuto, diciamo, un incendio in macchia. Io non mi ricordo assolutamente niente di incendio. Io mi sono risvegliato in ospedale. E se fosse un incendio per me è stato disastroso, perché mi ha trutto tre mesi in coma e poi ho avuto un anno di amnesia post-traumatica. Infatti, mi ricordo che non mi raccontassi già una volta che tu hai vissuto al tuo risveglio in uno stato in cui non riuscivi a distinguere il sogno dalla realtà e non avevi la percezione del tempo. Allora, diciamo che questo mi è successo principalmente quando ero in ospedale, ero ritorno. Io stavo sempre sognando. Per me era tutto un sogno. Io non mi rendevo conto bene delle cose. Non avevo cognizione dello spazio del tempo, non sapevo dove ero, non sapevo che ore ero, non sapevo niente. Poi, diciamo, con tanto lavoro, adesso non sono riuscito a capire le cose. Ma prima era come che fosse tutto un sogno per me. E come, quindi, abbiamo detto che tu hai vissuto questi tre mesi di coma e tu non ricordavi assolutamente niente di come si è svolto l'incidente. Quindi ti sei ritrovato in ospedale e al tuo risveglio, ovviamente poi hai dovuto fare tutto un percorso di riabilitazione che è stata lunga, e sia lì in Sardegna che addirittura, diciamo, all'estero, che comunque ti ha preso diverso tempo. E come si è svolta questa tua riabilitazione? Diciamo che la mia riabilitazione va ancora avanti perché io sono sempre sotto il turchio. Perché io vado sempre, cioè vado sempre in paese a fisioterapia. Poi mi devo esercitare con la voce perché io devo essenzialmente cantare. E poi vado avanti con la mia riabilitazione cognitiva. Poi io vado da un psicologo anche a Stavolvia e, diciamo, lavoro sempre sulla mia attenzione e nella mia memoria. Ecco, a proposito di memoria, Elio, tu hai iniziato, quando hai sentito questa necessità di iniziare a scrivere, che poi tu hai iniziato proprio con una forma di diario, no? Perché quotidianamente avevi bisogno di fare questo un po' il punto della situazione. Come hai sentito questa esigenza? Allora, io diciamo che mi sono reso conto della fortuna che avevo in mano all'ora di stare in TIP. Io sono stati due anni che non camminavo e parlavo pochissimo. Allora mi sono detto che io devo dire alle persone della fortuna che hanno, quando stanno in piedi, quando parlano, quando si muovono e soprattutto quando capiscono. E quindi diciamo che io ho voluto sostenere un diario di un anno. Il diario di un anno. E arriviamo infatti a quello che è il tuo primo libro che si intitola Una finestra sul mondo, che tu hai pubblicato nel 2018. Perché hai scelto questo titolo, Elio? Allora, Una finestra sul mondo perché è una finestra materiale. È una finestra del mio bagno vicino alla mia camera. Io sono stato i primi due anni completamente isolato. Camminavo pochissimo e stavo sempre a casa. Andavo, andavo a fumare qualche volta la cigarette in bagno, l'aprivo e avevo, diciamo, il mondo che si muoveva tutto, che si muoveva anche le persone, tutto il movimento. E quindi mi sono detto, mi dicevo, ma proprio devo stare fermo. E allora mi dicevo, diciamo, che andavo... L'ottavo sempre per, essenzialmente, per non stare fermo. Sì, e quindi tu hai osservato da questa finestra nel tuo bagno quelle che erano i movimenti che noi normalmente diamo per scontati, no? Giustamente tu parlavi del camminare, del fare qualsiasi azione che è abitudinaria, no? Perché è proprio della nostra funzione comune. Però te da quel momento ovviamente era cambiato tutto perché ti sei reso conto che proprio a causa delle difficoltà motorie e tutto il resto non era più così scontato. Elio, cosa racconti tu in questo tuo primo libro? Come racconti quelle che sono state anche le tue giornate poi di recupero delle tue attività anche cognitive? Le ho raccontate, insomma, sotto forma di diario perché io con il diario, diciamo, ho potuto lasciare questa mia piccola simulenza della fortuna che noi abbiamo in mano quando ci muoviamo e quando capiamo e quando parliamo perché noi abbiamo una fortuna in mano e noi non riconosciamo questa fortuna. Noi diamo tante cose, sono tutte per scontate. Io mi sono detto, ma io devo dire queste cose e quindi ho potuto stare le custodiali. Questo è un grandissimo messaggio Elio anche perché tra l'altro quando accadono questi eventi molto forti perché comunque hanno un impatto molto di cambiamento nella nostra vita e anche quando si tratta ad esempio di una malattia ma qualsiasi evento molto doloroso si crea una frattura un po' tra quella che è un trovo tra quella che è un'identità precedente e un'identità successiva a quell'evento. Chi era Elio prima dell'incidente? Allora, Elio prima dell'incidente era un ragazzo come tanti al mondo un ragazzo che lavorava perché io ho sempre lavorato un ragazzo che studiava un ragazzo che aveva i suoi amici, le sue amiche un ragazzo che usciva e diciamo io fosse un obiettivo normale avevo delle passioni avevo delle passioni sì, la possibilità per la politica la possibilità per la scrittura per la lettura anche degli sport perché io ho giocato per molti anni a tennis e poi andavo a Windsor quindi si può dire che ero un ragazzo normale. Molto attivo. E cosa è cambiato? Perché a me ha colpito molto una tua frase perché tu hai detto che per certi aspetti anche se questo incidente chiaramente ti ha segnato però per altri aspetti ti ha migliorato in cosa ti ha migliorato, Elio? Allora, questo incidente per me è stato devastante perché è stato devastante e mi ha polverizzato però non è stato tutto negativo perché mi ha dato alcuni aspetti negativi il primo è che io adesso so ascoltare io ascolto le persone le ascolto diciamo le ascolto più affabili più aperte al dialogo e quindi diciamo queste caratteristiche che sono leggermente più posibili rispetto a prima perché prima diremmo con la verità in tasca come Gesù Cristo quindi diciamo hai imparato ad ascoltare e ad essere più aperto al prossimo Elio, per quanto riguarda quella che è stata la tua attività di recupero come si svolge adesso la tua giornata? perché tu un'altra frase che mi ha colpito molto è che tu dici normalmente la settimana è fatta di sette giorni e c'è la domenica che viene considerata quello che è il giorno di riposo ma tu dici per me è sempre lunedì perché tu hai questa quotidianità in cui lotti sempre per restare in piedi per capirci esatto il mio stato di frigidità non mi permetteva i domenici io devo sempre lavorare tu mi hai stesso ad esempio io devo per parlare io devo cantare io metto ogni giorno a cantare dalla mattina metto a cantare grazie a questi questi risultati adesso posso interlocuire con il mondo e poi vado avanti anche diciamo con la mia ripetizione in fisica perché io vado sempre in palestra vado sempre faccio la fisioterapia e diciamo quindi mi batto sempre quindi quotidianamente ti devi esercitare e fare anche molto attivo certo se non sei finito con un letto muto ho capito ho capito ascolta Elio tu nel 2021 hai scritto questo secondo libro che si intitola I colori dell'anima e che cosa è cambiato diciamo nei contenuti di questo libro rispetto al primo libro che tu hai scritto perché comunque è passato qualche anno poi dal primo cosa è cambiato cosa c'è di nuovo è cambiato essenzialmente una cosa la cosa più importante mi ha preso di coscienza diciamo mi ha fatto capire quali erano i miei limiti e qui dove io potevo andare avanti e dove non potevo andare avanti e poi diciamo in questo secondo libro ho voluto testimoniare che l'impegno l'impegno la forza di volontà le persone le salvano perché io sono un membro di impegno di forza di volontà i risultati non avevo ottenuti eh sì sono d'accordo quello che mi ha sempre colpito di te perché abbiamo avuto modo di interagire altre volte è la tua comunque determinazione nonostante comunque la sofferenza no perché comunque è faticoso l'impegno che tu eh applichi ogni giorno per per stare bene e questa tua comunque eh forza di trovare il modo anche di condividere eh diciamo questo tuo eh percorso con gli altri per dare appunto il messaggio che comunque ce la si può fare no anche se è molto dura e ehm provo molta stima per te Elio perché eh veramente ci vuole ci vuole davvero molta molta forza e anche molto generoso e e non è facile perché poi sappiamo che comunque ehm quello che è condividere un dolore quindi o mettersi a nudo non è molto facile anche perché comunque eh è qualcosa di molto intimo no e comunque mh va a toccare le proprie vulnerabilità intimissimo perché se per il mio diario io ho raccontato le cose di me che io mai avrei mai raccontato però diciamo che nel primo diario ero cosciente non totalmente quindi quindi diciamo rendendomi anche poco non totalmente conto le cose alcune cose ancora le cose molto perfatte le ho raccontate mentre nel secondo diciamo come sussidere cose intime ma non totalmente come nel primo ho capito ascoltale perché hai scelto di chiamarli i colori dell'anima allora i colori dell'anima i colori dell'anima essenzialmente sono gli stati gli stati dell'umore di una persona io poi nelle mie numeri ho saputo che i sufi islamici cioè il sufismo la corrente mistica sostiene che all'interno del nostro corpo si trovano dei colori quindi io mi sono detto introduriamo i colori dell'anima ho capito quindi tu li utilizzi all'interno del libro perché poi ogni giorno tu attribuisci ad ogni giorno riportata nel libro quelli che sono quello che è un colore ed ho notato che ad esempio è molto presente il colore verde che per te rappresenta la speranza questo è molto bello sì perché diciamo che io in questi anni ho visto il tempo per vedere la speranza perché io dovevo avere la speranza non andavo avanti io se è rimasto se non avessi avuto un minimo di speranza non avrei fatto niente la speranza aiuta tanto a me però mi ha salvato la speranza certo ti ha dato l'impulso insomma per agire e provare ascolta Elio per quanto riguarda l'aiuto tu fin da quando ti sei risvegliato hai avuto molto supporto sia dalla tua famiglia che dalla dalla tua comunità perché comunque ti hanno aiutato anche a raccogliere i soldi che occorrevano per le tue cure perché comunque è stato un percorso anche molto costoso anche all'estero costoso perché allora posso dire che io io abitevo con i miei genitori mia mamma quando io stavo in ospedale ha morato il lavoro per stare con me e quindi lavoravo con mio padre e quindi quando ho deciso di andare a Bratislava siccome è un posto un po' costoso ho fatto questa racconta a fondi e tutti gli amici di Erzegren mi hanno aiutato infatti io ne ho mai ringrazio e oggi voglio ringraziare l'etico grazie che mi avete aiutato sì è un giusto veramente molto bello e non è scontato neanche questo perché ovviamente poi questi atti di generosità quando accadono sono veramente un grandissimo un grandissimo dono e anche comunque un bel segno di coesione no? però Elio a questo proposito qui abbiamo parlato di un aiuto economico per il tuo percorso e non solo ovviamente anche umano per il tuo percorso di recupero ma nel tuo quotidiano quanto è difficile accettare l'aiuto per quelle azioni quelle cose che tu non puoi fare più autonomamente come prima quanto è difficile accettare un limite no? perché comunque certe cose non sono più come prima come ad esempio camminare con una stampella piuttosto che utilizzare la carrozzella no? oppure l'aiuto di una persona quanto è difficile accettare questo dubbio dico una cosa che l'aiuto è fondamentale questo è un senso degli aiuti diciamo non si fa qualcosa della sua parte io prima diciamo un paio di anni fa quindi ero cosciente poco l'aiuto lo rifiuta invece oggi come oggi quando la gente mi vuole aiutare io l'aiuto l'accetto anche con difficoltà ma lo accetto l'aiuto infatti io ho qui due frasi che mi hanno colpito proprio riguarda questo una è se credi in me stesso la mia vita è perfettamente normale e se accetto l'aiuto ho capito che posso stare al mondo e questo è oltre che comunque un bellissimo gesto nei tuoi confronti perché è un gesto d'amore nei tuoi confronti perché riconoscendo quello che è comunque un limite dovuto alla situazione tu permetti a te stesso di andare avanti allora a me questo questo ciccio mi ha portato ad avere molti limiti mi ha portato ad avere bisogno di aiuto io ho sempre bisogno di aiuto infatti l'aiuto lo devo accettare magari con difficoltà per l'aiuto lo devo accettare solo vado avanti faccio un esempio se magari io sto camminando e magari che so arranco in campo magari la gente mi vuole aiutare io mica posso dire non aiutatemi io devo accettare la cosa io ho detto anzi per fortuna la gente è brava e mi aiuta sì Elio ascoltami io prima di concludere questa nostra conversazione di cui ti ringrazio perché per me il tuo messaggio è sempre molto attuale sono sicura che questa nostra conversazione aiuterà molte persone chi vuole acquistare questi tuoi libri dove può trovarli? allora i libri si possono trovare prima su internet si possono trovare su siti Amazon EBS mandatori festinelli ebay anche epli poi si possono trovare libri mandatori festinelli inoltre in tutte le libri si possono ordinare diciamo che i libri si trovano facilmente ok e chi invece volesse conoscerti o contattarti può trovarti su facebook luca e anche altri canali io scusa sul facebook con il mio profilo e poi c'è poi l'email e chi mi vuole scrivere mi scrive quando volentieri perfetto allora io poi alla fine dell'intervista metterò oltre alle copertine dei tuoi libri anche i tuoi riferimenti così possono contattarti e conoscerti meglio allora io ti ringrazio veramente molto per questa conversazione sappi che qualora tu più in là voglia tornare ad essere ospite e magari condividere un nuovo tuo progetto sarai sempre benvenuto qui a Dialoghi e voglio concludere questo nostro spazio leggendo se ti fa piacere citando una frase del tuo ultimo libro che appunto si chiama I colori dell'anima grazie devo credere in me stesso e soprattutto rendermi la vita più leggera perché non si può vivere sempre con la paura lottare non è facile ma rinunciare alla propria esistenza è peggio solo una grande forza di volontà e tanto amore possono farci sprigionare tutti i colori del nostro arcopaleno Elio io ti ringrazio e concludo ho voluto concludere questa frase perché c'è in te questo ripetere continuamente l'importanza dell'amore perché già una volta mi hai risposto è l'amore che mi porta avanti ecco Elio dimmi pure dimmi pure se vuoi darci un messaggio l'amore so fare le persone per lo meno a me è solo fatto l'amore esatto Elio questo è un messaggio bellissimo perché non è scontato neanche questo perché riuscire a sentire l'amore diciamo attraversando una grande sofferenza come tu hai fatto e fai nel tuo quotidiano è veramente anche indice nonostante le cadute comunque di tanta forza per cui io ti auguro veramente di essere sempre così forte propositivo Elio e di riuscire a diffondere questo tuo messaggio che sono sicura aiuterà molte altre persone che stanno vivendo una situazione come la tua ma non solo perché poi sono tante situazioni che possono accadere nella vita e questo tuo messaggio fondato sull'amore sicuramente darà molto supporto quindi Elio grazie anche personalmente perché sei un esempio anche per me e ripeto ti rinnovo l'invito a tornare e ti ringrazio per essere stato grazie a tutti per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata di dialoghi a presto ciao Elio ciao 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 ciao